Stando nei cortili con i bambini, nelle aule con gli alunni, con i giovani nelle città reali o nei quartieri virtuali, nei mercati con le giovani donne, voi accostate in realtà i problemi sempre nuovi che vi interpellano. Siate per tutti missionarie di speranza e di gioia, testimoniando i valori propri della vostra identità salesiana. Specialmente la categoria dell'incontro, aspetto fondamentale del vostro carisma. Papa Francesco si è rivolto così nella Sala Clementina alle religiose della congregazione delle figlie di Maria Ausiliatrice che hanno partecipato al capitolo generale. Ricordando il tema dell'Assemblea, essere oggi con i giovani, casa che evangelizza, il Papa ha sottolineato l'importanza degli orientamenti emersi per la vita delle religiose ispirate dal carisma di Don Bosco. L'impegno è lasciarsi guidare dalla prospettiva di uscire verso le tante zone di confine geografiche ed esistenziali e la necessità di attuare percorsi di conversione pastorale, trasformando così le vostre case in ambienti di evangelizzazione, dove soprattutto i giovani possano diventare essi stessi agenti di evangelizzazione per altri giovani. Per questo, ha concluso Papa Francesco, dovete affrontare la sfida dell'interculturalità per rendere efficaci i vostri interventi apostolici in un contesto, quello giovanile, permeato dal mondo virtuale e dalle tecnologie digitali.